Produceva pane senza le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha sequestrato da Arzano, in provincia di Napoli, un locale commerciale di circa 100 metri quadrati, al cui interno il titolare della ditta veniva sorpreso nella produzione di pane senza le prescritte documentazioni amministrative e senza un minimo requisito igienico-sanitario. L'attività di servizio in materia di tutela della salute pubblica è stata svolta dai finanzieri della compagnia di Afragola, guidati dal comandante Giuseppe Bovenzi. Agghiaccianti i particolari cui si sono trovati di fronte le fiamme gialle intervenute sul posto. In un'area adiacente al locale commerciale, infatti, veniva rilevata la presenza di legname di risulta, costituito per la quasi totalità da bussole verniciate, cioè porte da interno di abitazioni e paiezze che venivano utilizzati per alimentare il forno. La guardia di finanza ha sequestrato l'intera attività, denunciando per commercio di sostanze alimentari nocive il titolare dell'impresa, un uomo di 49 anni. Il pane prodotto da questo esercizio commerciale era venduto, purtroppo, in molti supermercati della zona di Arzano e non solo.